Allora, è un'esperienza unica perché è un lavoro insolito per noi infermieri, perché non è un ospedale, non è un ambulatorio, è una motopedetta o comunque una nave militare dove gli spazi e il materiale è poco e qui c'è molta inventiva, a livello di sanitario si impara ogni giorno e a livello personale è tutta altra storia perché si fa un'esperienza unica. Io vado giù come infermiera perché hanno bisogno quelle persone di un'assistenza sanitaria, io e il medico prendiamoci, imbarchiamo anche 28-30 ore in mare, torniamo a terra, 4 ore di riposo e si riparte, si riparte perché giù c'è gente che ha bisogno di aiuto perché in mare ci sono uomini, donne incinte, bambini piccoli che veramente hanno bisogno di aiuto e non c'è nessuno che può decidere se deve vivere o morire quella persona, quindi vado giù, faccio il mio lavoro, cerco di fare il massimo, cerco di rendere una traversata di ritorno più comoda oppure migliore a livello sanitario e le porto a Lampedusa, appunto dipende dalla varie emergenze, è un'esperienza che ti insegna e ti lascia qualcosa dentro che ti fa maturare, non si può spiegare, comunque si ha sempre la voglia di ritornare e a livello sanitario ovviamente sì, soprattutto per una persona giovane come me che è appena laureata e impari tantissimo, perché comunque vai a collaborare con persone di un'esperienza impressionante, quindi vai laureata proprio con gente importante, gente brava, quindi il tuo bagaglio professionale si ingrandisce e poi quello personale è tutt'altra storia, anche perché comunque si vedono cose brutte perché non si può negare, si vede proprio la morte e la morte non solo nelle persone adulte ma anche nelle persone piccole, vedi donne incinte che sono lì pronte al parto, vedi i bambini di due anni e quando vedi quelle cose, quando vedi i loro occhi, tutto cambia, soprattutto quando c'è una brutta traversata, vedi un bambino che ti sorride, ti cambia, ti cambia tutto, io vado tante volte lì solo per un sorriso, non solo di un bambino, ma anche di una persona qualunque, perché quando una persona stanca che fa ore in mare, che comunque il viaggio non è durato quelle poche ore o comunque quelle dieci ore in mare, ma è durato anni prima e sa di essere salvo, i suoi occhi dà una tristezza che ti rimangono, si accendono, quindi quando ti ringraziano tutte le varie lingue oppure ti metti a parlare, ti diverti, è un'esperienza che ti lascia, comunque tutte le persone che vogliono capire cosa c'è dietro agli sbarchi, io gli consiglio veramente di andare a Lampedusa e vedere con i loro occhi, cosa veramente succede, o comunque non basta Lampedusa, basta un centro d'accoglienza, basta vedere la gente, basta sentire i racconti di queste persone che la maggior parte sono giovani, che tante volte sono anche persone laureate, persone che vogliono venire a fare qualcosa, quindi non ci sono solo persone che si vogliono approfittare come tanti pensano, io ho incontrato anche colleghi, ho incontrato infermieri, ho incontrato medici che mi hanno aiutato venendo in difficoltà, oppure ho incontrato persone che durante uno sbarco difficile veniva e ci aiutava con la traduzione, perché comunque ovviamente la lingua è un ostacolo, quindi non sempre portare queste persone è una cosa negativa, anzi, è un'esperienza che non avrei mai pensato di poterla fare, comunque non ci ho mai pensato, quando mi è stata ovviamente offerta l'occasione ho provato, mi sono messa alla prova e ovviamente è finita bene, visto che tornerò nei prossimi mesi, quindi ecco. è un'esperienza che ti sta segnando e ti continuerà a segnare, quindi. Sì, anche perché quando purtroppo arriverà il momento che anche io comunque mi dovrò stabilizzare, perché comunque fare un mese sì, un mese no, non ti rende la vita comunque facile, anche la vita privata, una famiglia e tutto il resto, purtroppo ci dobbiamo stabilizzare, è solo il pensiero che non ci possa andare più come tanto tempo, ovviamente userò le ferie per andarci, però la ferie è di una settimana, ti ci viene il magone, perché l'isola è magica, c'è una collaborazione con la guardia costiera impressionante, si diventa una famiglia, quella famiglia ti manca, quindi non solo il soccorso, ma anche il lavorare con loro, che sono delle persone che si veramente, delle persone straordinarie che rischiano la vita veramente e sono stupende, cioè io della guardia costiera ammiro veramente che prima, per me la guardia costiera manco era militare, ignorantissima, quando sono venuta lì ho visto il lavoro, la fatica e la voglia, l'entusiasmo che ci mettono, sono rimasta colpita, infatti la voglia andare lì e la voglia anche di collaborare con loro, è bello, non so come spiegarlo, non si può spiegare, si può solo vivere una cosa del genere.